Ecco i nostri Ultras Noi vogliamo questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! Anche le leggi giallorossa Forse ragazzi Organizza una sciarpata Cristian organizza una sciarpata Oh fai quello dell'Islam Con il tamburo Le sciarpe in mano! Le sciarpe... Tutti aperte le sciarpe La sciarpe in mano! Vai, vai! Vediamo so! E' la sciarpe in mano! 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 Flurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Grazie.